Ciao ragazzi, come ho detto al titolo, voglio spiegarvi come vince una skin da 1000 V-Pack supportante, una carta da 1000 V-Pack. Allora, ve lo spiego velocemente, faremo 6-7 minuti per spiegarlo veramente, veramente sinteticamente. Allora, poi andiamo al proprio supposto, carta da 1000 V-Pack. Per riscattare questa carta, dobbiamo essere dentro l'account, quindi sapere come fare, prossimamente farò un tutorial di 2 minuti, molto corto per farlo vedere tutti. Quindi bisogna sapere nell'account la possibilità di mettere codici. Io vi dico un codice e voi dovete mettere semplicemente questo codice. Se il vicino a non dovesse avere, per esempio, non può mettere questo codice e vuole tipo un pass, io regalo io il pass, mentre sono 50 V-Pack in meno, però regalo io il pass. Poi bisogna avere Instagram, obbligatoriamente, perché io su Instagram vi chiederò se avete appunto per l'account, se vi seguite su YouTube, e poi, dovete seguirmi su YouTube per forza, anche questo qua, e poi, non è obbligatorio, però se lo fate, vi ringrazio molto, vi chiedo più che altro di farlo, magari. Seguite su Twitch, tutto che era solito, quindi credo di farlo. E su Twitch, se non l'avete, non ha un problema, Instagram dovete per forza averlo. Quindi, i tre requisiti principali sono, essere nell'account, avere Instagram e YouTube, e questi sono i principali, mentre altri dovete per forza usare un carciclatore, ok? Se voi non lo usate non sarete messi nella ruota. Che senso è nella ruota? È una ruota, io farò una ruota, ok? Una ruota sul telefono, la sedia sul computer, dove io vi dirò se mettete al carciclatore e mi date la ruota, semplicemente una ruota, cioè una volta vi metterò una ruota. Se sprendete dall'1 ai 499 VBAC, vi metterò due volte. Se sprendete da 499 a 949 VBAC, vi metterò tre volte. Invece, se sprendete più di 950 VBAC, quindi anche il pass vale, io vi darò in totale 4 volte di metterò nella ruota. Quindi, io non vi sto obbligando a shoppare in questo caso, non lo sto dicendo. Se shoppate, usate il mio codice così che potete fare dimostrati il rimborso, ok? Perché tipo, se voi sprendete il pass, semplicemente usando il codice, avete la possibilità di essere rimborsati e come se vi regalassi il pass. Quindi, questo è quello che volevo dirvi. Inoltre, durerà dal 6, o c'è il 6, penso che lo dovete riscreditarlo, però vediamo. O se no, diciamo tipo dal 6 o dal 7, adesso vedo. Fino al 30, quando i giorni prima, praticamente io, adesso capisco un pochettino in quanti siamo, un po' verso la fine, il 25 si chiedono le iscrizioni. Io ho tipo 5 giorni per decidere chi sarà il vincitore. Se siamo tipo in centinaia di persone, cercherò di pescare una ventina, ok? Così da fare, cioè poi sfidiamo con la ruota, ne giriamo, ne facciamo uscire una ventina, e vediamo chi escono. E poi li porterò in una mappa di spiata di moda. La mappa voglio crearla io, appunto. Però, siccome non posso nemmeno molto tempo, guarda ragazzi, posso cercare sfilata. Queste qua, forse, sono delle migliori. Poi, un'altra cosa per partecipare, vedo la mia mappa, basta cercare i co-cart, e mi farò un aggiornamento, penso stasera, vediamo, dove vi, praticamente, metterò una zona dove c'è il timer di 10 minuti. Voi dovete stare lì dentro, potete giocare, potete provare la mappa, avete la mia foto a 10 minuti, e voi siete ufficialmente dentro il contest. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se non avete capito qualcosa, scrivetelo nei commenti, e io vi risponderò subito. Ci vediamo, il 24-25 farò un video dove capiremo in quanti siamo. E niente, ciao ragazzi.